I Vangeli, non solo dal punto di vista religioso, ma anche da quello storico, letterario e umano, sono i documenti più importanti del primo secolo d.C. Ma perché la prima generazione dei cristiani ha voluto scriverli proprio così? Perché i Vangeli si sono formati in questo modo? Oggi pomeriggio al Festival Biblico di Vicenza, alla Chiesa di San Gaetano, è intervenuto il biblista gesuita Gian Noel Aletti per spiegarci perché la prima generazione cristiana ha raccontato Gesù Cristo. Professore Aletti, oggi al Festival Biblico, la domanda che ci si è posti è perché la comunità cristiana del primo secolo ha voluto raccontare in forma scritta nei Vangeli la vita di Gesù e l'ha voluta testimoniare in questo modo? Allora, ci sono diversi motivi. Il primo motivo per il quale la comunità ha dovuto scrivere i Vangeli è che dovevano superare e spiegarsi a proposito della morte ignominiosa del Signore e questo era un handicap fondamentale, un handicap originale, se possiamo così dire. Ora, il problema è che il modo il più diffuso era il modo biografico. Era come hanno scritto queste biografie, quindi riprendendo il modello greco-ellenistico. Però non soltanto questo, perché la difficoltà era che il modello greco-ellenistico era piuttosto di tipo informazione e riflessione a finalità imitazione, quindi etico, prevalentemente etico. Le biografie evangeliche sono biografie che non hanno primariamente come scopo di informare ma di informare in vista di far credere e dimostrare che credere in Gesù non sono tanto evalevole ma è l'unica soluzione per l'umanità. Il genere letterario-biografia ha permesso non soltanto ai cristiani di essere conosciuti quale gruppo capace di scrivere e di scrivere bene a proposito delle sue origini ma anche di dare un'immagine plausibile e realistica di Gesù. In cosa i Vangeli si distinguono così nettamente nel panorama ellenistico, nel panorama della letteratura di quel secolo? Si distinguono nel fatto che tutte le biografie da allora erano biografie di uomini conosciuti e non c'era difficoltà. Invece i Vangeli hanno come scopo di mostrare quell'uomo ignoto al suo tempo, Gesù, che non era né grande politico né grande militare né grande avvocato né grande niente quindi conosciuto appena in Galilea e in Giudea, anzi rigettato dal suo popolo era un uomo non soltanto meraviglioso, grande eccetera ma un uomo che era il salvatore del mondo. Quindi tutte le biografie evangeliche sono biografie che si focalizzano su questo riconoscimento fondamentale di Gesù e tutto ciò che è scritto in questi racconti ha come filo rosso questo problema del riconoscimento. Ecco